Buongiorno a tutti, anche a Burago purtroppo abbiamo un primo caso di coronavirus. Mi è appena giunta l'informazione da ATS, l'invito in questo momento è comunque di mantenere la calma, la situazione è sotto controllo, sono state attivate tutte quelle che sono le attività per tenere il controllo della situazione. ATS si occuperà di ogni aspetto e noi daremo il supporto necessario. Già da alcuni giorni noi abbiamo attivato la commissione che si occupa di coordinare le varie attività, come sapete c'è un numero anche dedicato per quanto riguarda l'assistenza agli over 65, per tutte le necessità primarie di cui hanno bisogno, quindi siamo perfettamente coordinati con la protezione civile, col comandante della polizia locale, con l'associazione di volontariato, quindi è tutto sotto controllo. L'invito che vi rinnovo è quello di stare a casa, di evitare qualunque tipo di uscita se non per ciò che è strettamente necessario e di seguire tutte le indicazioni che arrivano dal DPCM e da tutte le indicazioni di Regione Lombardia.